Per quel che riguarda le bici, invece abbiamo un altro testimonio, Gianni Bugno, che ricordiamo campione del mondo del 91. Allora Gianni, come vedi questo connubio moto-bici? Secondo me è un connubio ottimo, perché la moto è legata un po' alla bicicletta, che ha bisogno di moto anche di bicicletta. Poi, qua al centro-sud, dove la bicicletta è un mezzo di ricomodazione, ma è un mezzo di promozione, magari con delle problematiche di circolazione, fare questa attività è molto importante per il pubblico. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.